Ciao raghi, come state? Io sono appena rientrato dalle prove. La settimana si è conclusa bene, ho passato il terzo live grazie a voi. Sono super contento di essere riuscito a trasmettere di quello che era l'emozione, la mia maniera di portare un brano come la cura, che sappiamo che non è proprio così semplice, però sono davvero davvero soddisfatto del fatto che abbia anche creato una discussione durante il momento dei giudizi. Una bella discussione. Secondo me si è parlato di qualcosa di non banale, come il ruolo dell'artista, su come debba essere il percorso di un artista, deve essere totalmente strada dritta, oppure che ci possono avere anche delle vie secondarie e poi ritornare nella via principale. Questo è un po' come voglio che sia il mio percorso artistico e penso che all'ultimo live si sia un po' come. Certo, è un grosso rischio. Io mi rendo conto che giovedì ho rischiato tanto. Secondo me voi vi aspettavate una... la cura con sotto una base reggaeton. Lo so che me lo aspettavate. Avevo pensato a questo brano, è un brano che, come avete visto, tocca certe mie corde interne, delle corde emozionali. Era molto più coerente per me portare questo brano con quel sound, che mi rappresenta comunque. Non ero un qualcosa di forzato, anzi, io sono anche quello. Sono anche quello e sono contento che vi sia arrivato. Ero molto emozionato, ero molto preso. Tant'è che anche poi i vostri commenti, anche la gente che mi conosce mi ha scritto, mi ha tutto bene. Cioè, sorridi di più alla vita, cazzo. Lo so, ci avete ragione. Però sapete, un brano simile non è così facile da gestire a livello emozionale. E sono super contento che sia riuscito a portarvi e a regalarvi questo brano, l'ultimo periodo simile. E' bello. detto ciò, subito dopo il live, chiaramente non c'è un attimo di riposo. Bisogna subito mettersi al lavoro. Stiamo già lavorando alla quarta esibizione. Sarà una puntata molto molto impegnativa perché verrà strutturata in due fasi. Ci saranno due eliminazioni. Però, dico, sono riuscito a finora ad affrontare le sfide. Questa sarà l'ennesima e non mi spaventa perché, sì, è chiaro, mi sterserà tanto, però allo stesso tempo so che posso riuscire a farcela con la mia musica. con quello che sono. E come dico in bomba, non bisogna tirarsi indietro, non parsi indietro mai. E spero tanto che quello che porterò giovedì vi piacerà. appunto tale da permettermi di andare avanti. Vi mando un grosso bacio, un bacio enorme, super colorato e super affettuoso. Grazie davvero per il sostegno che mi date e per il supporto che mi date. Per me conta tantissimo. Vi prometto che sorriderò di più. Grazie.